Buongiorno, scusi, vuole un libro? Sì. Ecco, il titolo è Bonpiani? No, Bonpiani, scusi, è la casa editrice. Ah, aspetta, ha ragione, il titolo è Nicola Cinquetti? No, scusi, quello dell'autore. Ah, ah, sì, ha ragione, il titolo è, allora, ultimo venne il verme. Ultimo venne il verme, Bonpiani, Nicola Cinquetti, è fuori. Dove? Ciao.